Nasce a Teramo il Comitato di Quartiere Macro Area 4, nato dall'Unione dei Comitati di Quartiere, Stazione, San Berardo e Gammarana, sulla base del regolamento sui diritti e doveri di partecipazione di democrazia e di informazione dei cittadini. L'obiettivo è quello di affrontare e risolvere una serie di problematiche sociali e urbanistiche che diventeranno più pressanti con il passare degli anni. Sì, ma in sostanza siamo stati sempre uniti, da anni che collaboriamo, stiamo parlando del quartiere della Gammarana, di San Berardo, la stazione Cerro Cuori, quartieri con termina, la periferia di questa bellissima città, quindi abbiamo messo insieme delle energie piuttosto che disperdere in tante piccole idee, che forse poi magari diventano anche poco realizzate, abbiamo messo insieme un'idea comune di quello che pensiamo e di quello che vogliamo, ponendo attenzione al discorso della salvaguardia degli spazi e dell'ambiente, quindi visto che la Gammarana ci sono già diverse piste ciclopedonali fatti in anni passati, quando forse non c'era la moda delle piste e ne abbiamo anche pagato le conseguenze perché fummo attaccati in maniera pesante dai contrari alle piste, oggi sono tornate di moda, in voga, quindi ricollegare questi spazi, recuperare gli spazi abbandonati, l'area della stazione che deve essere comunque, noi siamo favorevoli all'arretramento quindi per riaprire quegli spazi, il recupero degli spazi della socialità, perché questi quartieri non hanno spazi della socialità se non le due chiese presenti, San Berardo e Sacro Cuore, quindi un'idea che va ad abbracciare questi spazi, adesso non entro nel dettaglio, per esempio nell'ambito della digitalizzazione, speriamo che sia una digitalizzazione che porta benefici perché fino ad oggi in realtà non sta portando benefici, ma nella speranza che si attivi in maniera seria e risultati positivi è quella di dare possibilità a chi ha meno possibilità, non ha la capacità di dargli una mano, aiutarli a formare e quindi utilizzare questi spazi, dare un supporto a chi si è in difficoltà, anche con una mensa per i soggetti in difficoltà, quindi ci sono tante idee che abbiamo messo in cantiere ed è stata l'occasione di parlarne insieme e oggi li vorremmo un attimino presentare alla città.